La sezione di microbiologia agraria del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali si occupa di ricerca e trasferimento tecnologico dei processi microbici nei settori agrario, ambientale e alimentare. Fin dalla seconda metà degli anni 50 del secolo scorso, è un importante centro di riferimento nazionale e internazionale per lo studio della microbiologia del suolo, della microbiologia enologica e dei microorganismi fotosintetici. Alcuni studi della sezione riguardano le croste biologiche, dette anche epidermide dei suoli, costituite da comunità di microorganismi in grado di contrastarne l'erosione. L'accumulo di sostanze organiche favorisce e migliora le proprietà idrologiche dei suoli, soprattutto in ambienti aridi e semi-aridi. La sezione di microbiologia agraria analizza anche lo sviluppo e il miglioramento della qualità dei prodotti alimentari di origine animale e il rapporto tra microorganismi e organismi superiori. In questo campo vengono studiati gli olobionti e le comunità microbiche a loro associati impiegando approcci metagenomici. La sezione si occupa dello sviluppo di sistemi di coltura per microorganismi fotosintetici sia a luce naturale che artificiale, LED, con l'obiettivo di ottenere elevate rese e biomasse microalgali di pregio. Microalghe e cianobatteri vengono studiati per le loro proprietà nutraceutiche, come ingredienti per alimenti funzionali e per l'acquacoltura, come biostimolanti e come fonte di biofuel. La ricerca si estende allo studio dei batteri fotosintetici rossi, utili sia per la produzione di bioplastiche che di energia da scarti agroalimentari e industriali, ovvero dell'energia rinnovabile e a basso impatto ambientale nell'ottica dell'economia circolare. Infine, la sezione si occupa di studiare il microbiota di bevande e alimenti fermentati, applicando anche la microbiologia predittiva per la gestione dei processi fermentativi e la metabolomica per la realizzazione di bevande e alimenti fermentati innovativi, come quelli nutraceutici. La sezione è riferimento mondiale per l'uso del phenotype microarray che permette lo studio approfondito del metabolismo microbico, utile per l'ottimizzazione dell'uso dei microorganismi nel settore delle biotecnologie agrarie, alimentari e ambientali. La sezione collabora attivamente con alcuni spin-off dell'Università di Firenze. Food Micro Team, con sede a Montepaldi, fornisce alle aziende agroalimentari assistenza tecnico-scientifica per il controllo e la gestione delle fermentazioni alimentari, anche attraverso la selezione e la produzione di lieviti e batteri lattici da impiegare come starter microbici per vino, birra, spumante, lievitati da forno, ecc. Fotosintetica e microbiologica SRL. Fondato nel 2004, fornisce fotobioreattori per la coltivazione di microalghe a scala pilota e commerciale. Offre assistenza per applicazione delle microalghe dei cianobatteri nei settori mangi mistico, degli integratori alimentari, per il trattamento delle acque reflue e il recupero di CO2 da emissioni gassose.